Siamo al WorldCamp con Marco Massarotto, uno degli sponsor storici con la società Gattura di WorldCamp. Raccontaci qualcosa di carino. Sponsor è una parola grossa. Vediamo se il touch è a due vie e se succede qualcosa non succede niente. Devi mettere tu un ditino se non succede niente. Vediamo se si spegne, non si spegne. Non si spegne neanche. Niente, no. Come sempre grazie a te Paolo per l'enorme lavoro che fai per il WorldCamp e per dare un punto di ritrovo ormai tutti gli anni qui a Milano per i blogger italiani. Grazie a voi che ci hai aiutato a sapere tantissimo.